251 casi su 20.339 tamponi processati, tasso di positività all'1,23%. Questo è il dato emerso dal bollettino epidemiologico del 5 novembre. I casi emersi dal report precedente erano stati 224 su 20.992 test con positività all'1,06%. Il totale dei contagi dal coronavirus emersi in Puglia sale a 273.799, di cui 3.227 attualmente positivi, 263.727 guariti e 6.845 deceduti. Uno è il decesso registrato nelle ultime 24 ore, 88 sono i casi attivi in più rispetto a ieri, 162 sono i nuovi guariti. Calano da 146 a 143 i pazienti ricoverati in area non critica, passano da 17 a 20 le terapie intensive. Su scala provinciale il dato più alto di giornata è rappresentato dai 106 nuovi casi emersi nel Barese. 99.849 è il totale dei pazienti registrati nell'area del capoluogo di regione da inizio pandemia. 48 sono i nuovi positivi emersi nel Tarantino, 41.741 è il totale dell'area ionica. Numeri simili nelle Cese e nel Foggiano, zone nelle quali sono stati registrati rispettivamente 37 e 35 nuovi contagi. 32.127 è il totale dell'area salentina, 48.377 è quello della capitanata. 23 sono i nuovi casi emersi nel Brindisino, un dato che porta il totale a 21.718. La giornata odierna ha visto infine la riclassificazione di 5 casi precedentemente assegnati alla provincia di Barletta-Andriatrani. Il totale della BAT è ora 28.464. A chiudere il quadro un residente fuori regione, 6 casi dalla provenienza non nota. 4.281.464 è il totale dei tamponi processati in Puglia da inizio pandemia.